La tradizione è che le conclusioni siano molto brevi, dopo l'intervento dell'onorevole Vaccaro devono essere ancora più brevi perché visto che ha detto fondamentalmente che hanno la sola possibilità di annichilire la bellezza del convegno quindi cerchiamo di ridurre, visto che questa è l'unica possibilità che abbia dato, quindi cercherò di ridurre il danno. Io credo innanzitutto, grazie a tutti quanti voi, grazie a quanti sono intervenuti, grazie ad Adriana Cerretelli per la sua relazione e mi sembra che questa edizione possiamo dire sia stata all'altezza delle altre, non solo per il numero degli interventi, 32 più 5 amministratori locali ma soprattutto per i contenuti e perché se partiamo dalla traccia iniziale mi sembra che qualche passo in avanti, alla fine di due giorni di discussione, qualche passo può essere registrato. Noi siamo partiti da un approccio che divideva due ambiti e questi due ambiti erano da una parte l'emergenza, il problema dello sbarco dall'altra il problema invece della convivenza sociale innanzitutto di quanti sono già sul nostro territorio e di quelli che arriveranno. Non confondiamo i due piani perché questa è una cosa che i mass media fanno continuamente e mi sembra che da quanto è stato detto questo approccio è un approccio diciamo così analisticamente conveniente mi sembra che in particolare quello che ci ha detto Natale Forlani ieri conferma che sulla gestione dell'emergenza c'è molto da migliorare e quindi molto da criticare e d'altra parte un elemento di intersezione come nella teoria degli insiemi poi appunto due insiemi si intersecano evidentemente tra questi due ambiti esiste e questo è venuto fuori con molta chiarezza dalla relazione di stamattina di Adriana Cerretelli l'elemento che mette in contatto i due elementi è l'Europa perché laddove non c'è una politica europea c'è il rinchiudersi all'interno dell'illusione di una gestione semplicemente nazionale del problema e l'Italia questa chiusura l'ha operata fino a che i fatti non l'hanno smentita e in qualche modo svelata perché io ripeto con ancora più chiarezza quello che ho detto ieri a me sembra che il modello italiano fondamentalmente era basato su una esasperazione innanzitutto delle divisioni nazionali tra nord e sud per cui al sud in particolare si mettevano grandi centri di accoglienza perché questi portavano un indotto sia di carattere economico che di carattere politico per il resto si allungavano i tempi di permanenza e si cercava di non riconoscere quanti appunto arrivavano nel nostro paese per consentire un più facile deflusso rispetto alle frontiere e quindi scontare già la impossibilità di una gestione solidale del fenomeno e scontare già in partenza il fatto che la frontiera mediterranea non possa essere considerata frontiera europea ora proprio il fatto che questo modello sia entrato in crisi si sia a tal punto disvelato da far emergere tutte quante le brutture pone secondo me un problema che poi è un problema di fondo che è emerso come vedremo anche in altri ambiti cioè qui noi dobbiamo decidere anche se essere realisti vuol dire anche essere rassegnati perché il realismo ci porta a dire che l'Europa difficilmente la recupereremo a una politica comune per tutte le ragioni che ha detto Adriana oggi l'essere rassegnati ci porta però ad aderire a soluzioni che non sono all'altezza della complessità dei problemi perché un problema europeo di fronte a un fenomeno di questo tipo si pone per forza pena il fallimento dell'Europa e quindi una riflessione su quest'ambito e sulla necessità di una rivisitazione profonda delle politiche europee evidentemente prendendo anche in considerazione le doppie velocità e le segmentazioni perché questo dobbiamo dircelo viene sempre più chiaramente fuori cioè se vogliamo salvare l'Europa non possiamo salvare quest'Europa e dobbiamo mettere in conto il fatto che di Europa ce ne sono almeno due almeno due se vogliamo dare una centralità alla dimensione dell'euro e della moneta e questa è una scelta da una parte poco realistica dall'altra rispetto alla portata dei problemi è l'unica scelta possibile a meno di non retrocedere sulla ipotesi di un modello di gestione nazionale che però fino ad ora non siamo riusciti a elaborare se non in quella parte spontanea di cui alla fine parlava Eugenia e che fondamentalmente veniva fuori anche come graffiti dagli interventi che ieri hanno svolto i sindaci ecco questa differenza, questo problema del confronto tra il realismo e la rassegnazione cioè il fatto di non far coincidere il realismo con la rassegnazione si pone anche rispetto alla valutazione complessiva del fenomeno che poi pone e ci pone il problema successivo valutazione complessiva del fenomeno ieri noi abbiamo avuto una valutazione soprattutto di carattere economico fatta su dati precisi e che ci porta a dire come realisticamente con questo fenomeno si devono fare i conti e che questo fenomeno può essere anche una cosa fortemente positiva per il nostro paese qui però c'è un problema innanzitutto di valutazione e che anche qui l'intervento di Adriana oggi ci ha posto davanti agli occhi in qualche modo riequilibrando la bilancia non è possibile che quando si parla ad esempio delle trivelle nel mar Mediterraneo oppure sulle nostre coste immediatamente l'obiezione che viene fatta alla convenienza economica del problema è che noi non calcoliamo però il costo di tutta una serie di altri fattori come l'ambiente, come l'impatto sociale e così via ora evidentemente questo stesso criterio va applicato a un fenomeno come quello dell'immigrazione i dati economici sono dati dai quali dobbiamo partire è chiaro, è scontato e mi sembra che da questo convegno venga fuori con ancora più forza che in una valutazione anche di tipo economico bisogna considerare tutta una serie di altri aspetti iniziando dalla sicurezza e continuando per quei temi che sono stati qui assai bene delineati cioè costi e benefici non sono così automatici e questo pone il problema di una gestione del fenomeno cioè il fenomeno non può essere lasciato diciamo spontaneamente ad una sorta affidandoci a una sorta di positivismo per cui insomma questo è il è suggerito dai tempi e poi le cose vanno bene io penso che nella seconda parte della relazione di Adriana Cerretelli la parola che più ricorsa soprattutto laddove venivano mostrati esempi virtuosi è che il fenomeno è stato gestito e quindi dobbiamo porci nella propensione di avere politiche attive rispetto a questo problema e tra questo, all'interno di questo ambito, all'interno di questa cornice si pone un problema che ha richiamato anche Eugenio io non credo che il problema possa essere gestito eliminando la dimensione identitaria che tra le altre cose è la dimensione su cui Magna Carta insiste da 11 anni è la dimensione dei valori cioè non ci può essere anche qui una ripartizione di compiti cioè noi sviluppiamo possibilità lavorative altri fanno i figli questo semplificando credo che sia un modello che non funzioni un forte richiamo alla identità e valori di fondo della nostra comunità nazionale io credo che questo ci sia assolutamente bisogno ed è anche qui un fatto realistico non è un fatto diciamo tra virgolette di soltanto apparentemente è più difficile ma in realtà tenendo conto che oggettivamente un'integrazione ci deve essere che non ci possono essere delle inversioni di tendenza complessive è molto più facile integrare due cose che vanno nella stessa direzione e si pongono gli stessi problemi che non due ambiti che vanno in direzioni completamente opposte e allora per concludere e per riportare tutto il dibattito a cose concrete sulle quali poi continuare i nostri lavori c'è un problema di recupero di valori come è stato detto non per fini tra virgolette egemonici ma per consentire diciamo tra virgolette una parità che faciliti fortemente il processo integrativo io credo che molto dovremmo lavorare su legalità e stato di diritto perché anche da quello che veniva fuori dai sindaci ieri e da alcuni interventi è evidente che qua ci sono due situazioni completamente diverse in due parti d'Italia per certi versi mi colpisce il fatto che Assuntina ci dice che i pakistani del suo paese vengono riportati all'ordine non dalla nostra polizia ma dall'imam ma al di là di questo se invece prendiamo soprattutto il mercato del lavoro e la capacità del mercato del lavoro di integrare è evidente che c'è una capacità di integrazione differente nelle due parti d'Italia perché esiste un tasso di legalità di rispetto della legge e di certezza del diritto che è completamente differente questo è un problema che va posto il tema della scuola guardate questo è un tema che va completamente ripensato anche rispetto a quello che ci è stato detto all'interno di questo convegno cioè noi siamo ancora ad un punto per cui se voi vedete il dibattito pubblico anche il dibattito in Parlamento il tema del rapporto tra scuola pubblica e scuola privata è impostato in termini ottocenteschi come se il problema fosse quello della scuola clericale o della scuola statale e nessuno si pone invece il problema dei compiti nuovi della scuola in una situazione nella quale in tutte le classi in alcune classi i ragazzi stranieri arrivano ad essere la metà o anche più della metà e questo significa ripensare anche la distribuzione di questi ragazzi mi ricordo anni fa una circolare del ministro Gelmini che diceva che appunto questa distribuzione doveva essere omogenea fece un grande scandalo perché sembrava in qualche modo diciamo tra virgolette connotata di razzismo laddove ci sta un dato di realismo perché l'alternativa è quella che si producono delle classi ghetto dove ci sono soltanto che è più politicamente corretto e poi magari fa più piacere ai genitori dei quartieri alti di una città perché nella classe del suo figlio non si crea il fenomeno che si crea oggi nella piazza di Modena e di cui ci ha accennato il senatore Giovanardi quindi il tema del pubblico privato nella scuola va completamente ripensato può essere un grande tema su cui sviluppare la coscienza nazionale e infine io credo che noi dovremmo probabilmente anche dedicare un seminario a questa legge sulla cittadinanza che sta arrivando perché se è vero se è vero che uno degli aspetti fondamentali e che poi riassume tutto quanto il nostro dibattito e che la cittadinanza debba essere adesiva debba essere qualcosa che porta a stringere un contatto tra la comunità nazionale e chi arriva questa legge a me pare abbia un buco nero enorme perché si affida a meccanismi automatici e che riguardano soprattutto i figli i quali si troveranno ad avere la cittadinanza laddove i loro genitori non l'avranno e molto spesso saranno anche lo strumento per i genitori per superare una serie di problemi per superare il problema dell'adesione e noi rischiamo di creare quello che nel nostro paese ancora non c'è il problema tra la prima e la seconda generazione quindi attenzione su questo dobbiamo secondo me concentrarci su questo così come dobbiamo chiedere di associare a questo tema quello di una revisione profonda del testo unico sull'immigrazione che data 25 anni quindi un tempo geologico rispetto a quello che è accaduto su questo tema e che poi riguarda i migranti non richiedenti asilo e la loro possibilità di entrare che poi sono appunto la maggioranza ecco con questa agenda di lavoro ci lasciamo e mi sembra ci lasciamo anche in maniera proficua grazie grazie a tutti grazie a tutti